Io sono Francesca Cigliana Fungosi, sono un'attivista di Estizia Rebellion e faccio attività ambientale da 20-30 anni. Sono stata in molti movimenti, in molti comitati e l'ambiente è il tema principale per me di importanza visto che sono un medico e la prevenzione e la salute e l'ambiente sono i temi fondamentali.